L'umanità ha fame e sete di giustizia, di verità e di pace, il tempo del Natale, l'occasione giusta per aprire il cuore alla speranza dinanzi a un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. Lo ha sottolineato Papa Francesco durante la Catechesi dell'Udienza Generale, partendo dal capitolo 52 di Isaia, dove si invita Gerusalemme a svegliarsi, scuotendosi di dosso la polvere e le catene perché il Signore è venuto a liberare il suo popolo. Il Pontefice ha ricordato che vivere la gioia del Natale vuol dire prendere coscienza che Dio è più forte del peccato e che con il suo amore si china sull'umanità ferita. E anche noi siamo sollicitati a svegliarci un po', come Gerusalemme, secondo l'invito che le rivolge il profeta. Siamo chiamati a diventare uomini e donne di speranza, collaborando alla venuta di questo Regno, fatto di luce e destinato a tutti. Uomini e donne di speranza. Ma quanto è brutto quando troviamo un cristiano che ha perso la speranza. Ma io non spero nulla. Tutto è finito per me. Un cristiano che non è capace di guardare orizzonti di speranza e davanti al suo cuore è soltanto un muro. Ma Dio distrugge questi muri col perdono. E per questo la nostra preghiera, perché il Signore ci dia ogni giorno la speranza e la dia a tutti. Quella speranza che nasce quando vediamo Dio nel presepio a Betlemme.